Buonasera buonasera a tutti i ragazzi bentornati ancora oggi su CryptoSala io sono Federico siamo al 7 luglio 2020 oggi iniziamo guardando la chart di bitcoin sulle 4 ore in realtà non accade molto rispetto a ieri bitcoin che sembra essere stato momentaneamente rigettato dalla resistenza e ci troviamo adesso a 9.260 dollari dopodiché guardiamo delle chart decisamente rilevanti se abbiamo una mentalità da investitori di lungo termine per cui guardiamo la chart di bitcoin sul mensile guardiamo lo stock to flow guardiamo una media mobile molto rilevante che è quella dei 1458 giorni e poi guardiamo le candele annuali quindi delle chart che ci dicono se bitcoin si sta comportando bene e in un'ottica di lungo termine sta in qualche modo mantenendo le sue promesse quindi ragazzi mi raccomando se vi sembra interessante come al solito non dimenticate di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale cliccate la campanella per ricevere le notifiche iniziamo velocemente guardando la chart qua siamo subito le 4 ore e vediamo che rispetto a ieri dicevamo bitcoin non si è mosso molto sembrerebbe essere stato rigettato momentaneamente da questa resistenza discendente e in questo momento sta trovando supporto su questa linea gialla che altro non è che la media mobile delle 200 candele qua siamo sulle 4 ore quindi vediamo se questa media mobile riuscirà a spingere il prezzo di bitcoin al di sopra di questa resistenza guardiamo poi ragazzi il time frame giornaliero volevo mostrarvi un incrocio bullish nel macd eccolo qui c'è stato come vedete le due linee sono incrociate c'è la prima barra dell'istogramma verde quindi da un punto di vista giornaliero sulla base di questo indicatore potremmo aspettarci dei rialzi quindi è sempre però ragazzi una questione di probabilità passiamo poi a guardare le chart quelle più interessanti di lungo termine iniziamo a guardare quella mensile qua sempre su di stampa ogni candela rappresenta l'andamento di un mese e vedete che bitcoin non ci vuole un esperto di analisi tecnica per vedere che il trend di bitcoin è rialzista da tutti i punti di vista pensate addirittura che bitcoin non è mai stato se consideriamo il nastro di media mobile e maribbon questo nastro di media che vedete sulla chart non è mai stato in un bear market quindi in un mercato ribassista bitcoin non si è mai posizionato saldamente al di sotto di questo nastro vi è entrato in contatto soprattutto con l'ultima media mobile questa qui che vedete qua che ha funzionato da supporto in due occasioni nel fondo del bear market del 2019 fine 2018 inizio 2019 e poi con il dump che c'è stato a marzo bitcoin è sceso al di sotto di questa media mobile e poi ha rimbalzato ed ha chiuso al di sopra di quest'ultima quindi decisamente da un punto di vista mensile il trend continua ad essere rialzista da quando bitcoin è nato per cui all'incirca 11 anni fa quindi decisamente incredibile bitcoin come sia uno strumento di investimento e di risparmio davvero eccezionale vediamo se questo trend continuerà guardiamo poi ragazzi la chart qua siamo su un sito molto interessante ve lo consiglio si chiama digitalic.net ci sono alcune chart davvero particolari sempre riguardo bitcoin questa che vedete la chart dello stock to flow molto velocemente lo stock to flow rappresenta il rapporto che c'è tra lo stock e quindi la quantità di bitcoin già in circolazione e il flow quindi il numero di bitcoin che viene immesso in circolazione tramite il processo del mining ogni volta che c'è un halving per cui all'incirca ogni quattro anni il flow va dimezzandosi perché il block reward a favore dei miners si taglia all'incirca del 50 per cento di conseguenza questo rapporto tra lo stock e flow va modificandosi ogni quattro anni che cosa ci dice questa chart questa chart ci dice che a seguito dell'ultimo halving il prezzo il fair value quindi il valore di mercato di bitcoin sulla base dello stock to flow suona strano a dirsi ma dovrebbe essere all'incirca 101 mila dollari e in questo momento ovviamente non è immediato vedete che lo stock to flow si muove in anticipo rispetto al prezzo e poi il prezzo successivamente lo segue per lo meno ragazzi questo è quello che è sempre successo e ovviamente stiamo tutti aspettando che questo ciclo si ripeta nuovamente i colori che vedete qui questo è il prezzo di bitcoin i colori rappresentano i giorni che mancano al successivo halving e come vedete questi due ultimi pallini sono rossi perché mancano 1400 giorni al prossimo halving la fase rialzista come vedete nei precedenti cicli è partita con dei pallini rossi e si è conclusa poi successivamente con dei pallini gialli e verdi quindi man mano che ci si avvicina al successivo halving la colorazione dei pallini cambia e come vedete la fase rialzista più parabolica che c'è stata nel 2017 e nel 2013 corrisponde a una colorazione gialla o tendente al verde quindi più o meno quando mancano vedete qua sulla destra la scala quando mancano all'incirca 1800 giorni al halving successivo quindi ci potremmo aspettare se la storia si ripeterà di vedere un nuovo massimo per bitcoin quando mancheranno 800.000 giorni al prossimo halving quindi all'incirca adesso ne mancano 1400 all'incirca tra 600 500 giorni quindi all'incirca un anno e mezzo se lo stock to flow è confermato molti in questo momento stanno dicendo lo stock to flow il modello non è più valido perché c'è stato l'halving bitcoin ancora non si è mosso tuttavia sono chart che richiedono decisamente tempo per di spiegarsi quindi aspettiamo di vedere che cosa succederà però da questo punto di vista bitcoin sta ancora facendo il suo lavoro poi ragazzi voglio mostrarvi un'altra chart molto interessante sempre sul sito digitalic.net questa chart rappresenta in verde l'andamento del prezzo di bitcoin poi abbiamo due linee che sono una blu che è la media mobile dei 1458 giorni non è un numero a caso ma rappresenta i giorni che ci sono in quattro anni e quattro anni è il ciclo di bitcoin se consideriamo l'halving dopodiché la linea gialla invece la media mobile dei 200 giorni la media mobile dei 200 giorni che è molto rilevante perché è lo spartiacque tra un bull market mercato rialzista quando il prezzo è al di sopra della media mobile mercato il bassista invece quando siamo al di sotto della media mobile e vedete come in particolare la media dei 1458 giorni è stata rispettata come punto di supporto al bottom del bear market che abbiamo visto a fine 2018 inizio 2019 con bitcoin che è arrivato a 3.100 dollari all'incirca vedete qui il supporto e poi con il dump che c'è stato a metà marzo anche qui questa media mobile ha funzionato da supporto questa linea tratteggiata che vedete è l'halving di bitcoin quindi il taglio del block reward successivamente qua la chart replica l'andamento del prezzo che c'è stato dopo il precedente halving quindi quello del 2016 e se dovesse ripetersi lo stesso andamento del prezzo ovviamente in termini percentuali potremmo vedere un all time high di bitcoin a 312.000 dollari prima della fine del 2021 quindi praticamente a fine ottobre 2021 quindi decisamente molto interessante vedremo che cosa succederà se bitcoin inizierà nei prossimi mesi a muoversi a rialzo potremmo comunque sperare che queste statistiche possano continuare ad essere vere dopodiché ragazzi voglio mostrarvi come ultima chart le candele annuali una chart che si vede di rado anche perché su trading view mi sembra che non ci sia e come vedete su 11 candele annuali bitcoin ha disegnati solo due rosse e quindi decisamente un investimento incredibile se si considera bitcoin come un edge quindi un riparo contro l'inflazione ma anche come un posto sicuro dove investire proprio risparmi perché nel lungo termine per adesso ha sempre performato in maniera decisamente incredibile quindi ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere voi cosa ne pensate siete bullish sul futuro di bitcoin se ritenete che sia possibile che bitcoin raggiunga non solo la fatidica cifra dei 100.000 ma anche i 300.000 entro la fine del 2021 o bitcoin è in ritardo e questo ciclo si prolungherà magari nel 2022 o nel 2023 fatemi sapere grazie per la vostra attenzione ci vediamo al prossimo episodio ciao